Il mondo è un hit di un'altra, il momento è di spingere, non è di un anno, non è di un anno. Il mondo è un anno, non è di un anno, non è di un anno, non è di un anno. Dici, è vero. Sì, è vero. Grazie a tutti.